Solo così mi capirai e imparerai come farti capire da me. Viridiana è una cooperativa di tipo A che si occupa di servizi sociosanitari ed educativi. Attualmente siamo 95 dipendenti di cui 73 soci. Viridiana offre servizi educativi rivolti a minori e famiglie. Prevalentemente i dipendenti di Viridiana sono educatori professionali che svolgono attività presso scuole, domicili, centri ricreativi e dopo scuola. Abbiamo anche assistenti sociali, psicologhe e bibliotecarie. Viridiana sede ad Asola ed opera prevalentemente nelle province di Mantua e di Brescia. Questo è il centro educa dove Viridiana offre servizi e consulenze con la logopedista, la psicomotricista, la neuropsicologa, la neuropsichiatra, attività educative rivolte ai genitori e ai bambini. Viridiana nasce nel 2003 per l'esigenza del territorio asolano di affidare servizi alla persona ad una cooperativa specializzata. Interveniamo quando veniamo direttamente chiamate dalle famiglie e dalla comunità, ma anche attraverso servizi che secondo noi rispondono alle nuove esigenze del territorio. Molte famiglie con figli autistici ci chiedono costantemente di trovare il modo per far sì che i loro figli possano comunicare con il contesto di vita. Buon torno! Ciao Ivani! Stai bene? Sì! Bravissimo! Allora, mi daresti una pizza per favore? Quanto costa? Ok, allora... Pensiamo alla loro quotidianità. Scuole, bar, ristoranti, oppure quando si trovano in difficoltà, ospedali o hanno bisogno di aiuto. Viridiana da qualche anno ha adottato lo strumento principale per la comunicazione, la CA, la Comunicazione Aumentativa Alternativa, che permette di tradurre il linguaggio verbale in simboli ed immagini. L'obiettivo del progetto Fuori dagli Schemi è far conoscere la comunicazione aumentativa alternativa ad alcuni servizi fondamentali. Non pensiamo solo ai bambini con autismo, ma a tutte le categorie di persone che si trovano in difficoltà comunicativa, anche temporanea. Un bambino autistico può non dirti come si chiama, ma può rispondere a una scheda come questa. Cosa vuoi mangiare? Di cosa hai bisogno? Dove ti fa male? Con delle immagini che coprono queste esigenze, che possono essere estremamente poche, e quindi con una cosa decisamente, diciamo, uno strumento decisamente povero, potreste fare una grossa differenza. Potremmo tutti fare una grossa differenza nella vita non solo di bambini, ma anche di adolescenti, di adulti, che non riescono a comunicare, ma anche nella vita di tante famiglie come noi, che viviamo in costante ansia, perché se il nostro figlio si perde, non può dirvi perché, dov'è o chi è.